È di Urbino, ma lavora all'Aquila. Da ieri figura nell'elenco annuale delle 100 persone più influenti al mondo, secondo la rivista Time. Si tratta di Marika Branchesi, ricercatrice al GSSI e membro della collaborazione internazionale Ligo Vigro. L'elenco stilato ogni anno dal Time, giunto alla sua quindicesima edizione, riconosce l'attività innovativa e i traguardi dei personaggi più influenti al mondo. Pochissimi gli italiani, solamente 10 i combranchesi, che figurano nelle 15 edizioni della loro 100 Time List. Tra i connazionali nominati in passato è figurato anche Renzo Piano. Nessuno fino a oggi proviene dal mondo della scienza. Sono molto emozionata. È un riconoscimento davvero inaspettato, afferma la ricercatrice, dalle scoperte rivoluzionarie ottenute osservando le onde gravitazionali ai riconoscimenti internazionali degli ultimi mesi. Per me è un continuo successo, di grandissime emozioni. Sono estremamente onorata dal fatto che, grazie a questa nomination time, per la prima volta assegnata ad una scienza italiana, il nostro paese e la nostra ricerca scientifica siano riconosciuti a livello internazionale. Da astronoma, lavora da anni all'interno della collaborazione internazionale di Ligo Vigro per la rilevazione delle onde gravitazionali. Presidente della Commissione di Astrofisica delle Onde Gravitazionali della International Astronomical Union e membro del Comitato Internazionale per le Onde Gravitazionali. Branchesi è entrata a far parte della collaborazione Vigro nel 2009 ed è ricercatrice al Grand Sassos Science Institute e associata all'INFN. Il suo ruolo è stato quello di favorire l'unione tra l'astronomia osservativa e la fisica strumentale degli interfenometri utilizzati per captare le onde gravitazionali, aprendo così la strada alla multi-messenger astronomy. Gli editori del Time affermano Time 100 è la lista degli uomini e le donne più influenti al mondo, non dei più potenti, anche se non si tratta di termini che si escludono a vicenda. Mentre il potere è certo, l'influenza è più sottile. Per quanto questo elenco descriva i risultati dello scorso anno, ci concentriamo anche su figure la cui influenza è destinata a crescere. Siamo orgogliosi, commenta Eugenio Coccia, rettore del GSSI. È un utore resegno che è possibile reclutare brillanti talenti e fare scienza di frontiera in Italia e in particolare all'Aquila, che sta diventando una moderna città europea della conoscenza.